L'innovativo apparecchio per la stimolazione muscolare EM95 EMS Home Studio di Beurer è un apparecchio EMS High End da utilizzare a casa e in combinazione con l'app gratuita Beurer EMS Home Studio consente un allenamento EMS professionale. In questo video ti mostreremo l'utilizzo corretto. La dotazione comprende l'apparecchio per la stimolazione muscolare, una clip per cintura, cavo di alimentazione, elettrodi adesivi, manicotti, una custodia e un cavo di carica. Per prima cosa carica l'apparecchio mediante il cavo di alimentazione o il cavo USB. Per poter utilizzare tutte le funzioni scarica l'app Beurer EMS Home Studio sul tuo smartphone o tablet. L'apparecchio per la stimolazione muscolare può essere utilizzato anche senza l'app. Per informazioni a riguardo consulta le istruzioni per l'uso. Per prima cosa seleziona il coach desiderato. Puoi scegliere tra un istruttore donna o uomo. Dopodiché l'apparecchio e l'app devono essere accoppiati. A questo scopo accendi l'apparecchio EMS, selezionalo nell'app e inserisci il codice PIN a 6 cifre. Quindi crea il tuo utente. Una volta terminata la configurazione puoi iniziare l'allenamento. Prima di iniziare ricordati di assumere liquidi a sufficienza e di fare un buon riscaldamento. Per iniziare l'allenamento seleziona l'allenamento desiderato nell'app dalle categorie Fitness and Power o Relax and Wellbeing. Al termine della selezione e dell'impostazione del livello di difficoltà viene visualizzato il posizionamento dei manicotti e degli elettrodi. Prima di essere applicati i manicotti per braccia e gambe devono essere inumiditi molto bene. Esegui questa operazione sotto l'acqua corrente utilizzando una bacinella o uno spruzzatore. Gli elettrodi adesivi non devono essere bagnati. Li puoi applicare direttamente sulla pelle. Applica i manicotti o gli elettrodi adesivi sul corpo seguendo le istruzioni dell'app. Stringi bene i manicotti in modo da farli aderire alla pelle. Collega un cavo a ogni manicotto o elettrodo adesivo e successivamente attaccalo all'apparecchio. Il colore del canale visualizzato sulla schermata deve essere collegato al colore del cavo e al colore del canale in modo appropriato. Una volta applicato e collegato il tutto correttamente puoi iniziare l'allenamento. Fai clic su Iniziamo sulla schermata dell'app. Il programma inizia con il primo esercizio non appena aumenti l'intensità sull'apparecchio con il tasto più. Qui puoi adattare il livello di intensità per ogni canale in modo personalizzato. A questo punto il tuo Virtual Coach ti guiderà con video di istruzioni attraverso l'intero allenamento secondo la sequenza degli esercizi. Hai a disposizione 20 allenamenti con esercizi predefiniti. In alternativa puoi creare anche un allenamento personalizzato a partire da 50 esercizi. Al termine dell'allenamento puoi inserire nell'app il tuo feedback. Inoltre, nell'app puoi creare i tuoi allenamenti e accedere a Statistiche e Calendario. Assicurati che i manicotti siano completamente asciutti prima di riporli nella custodia. Ci auguriamo che sarai soddisfatto di Boirer EMS Home Studio. Per ulteriori informazioni visita www.boirer.com